Mi ha mandato un messaggio Tu a lui Sì, gli ho scritto un messaggio anche perché nella partecipazione di questa mia amica c'era la frase del piccolo principe della rosa che è più bella perché la sai coltivare ed rimane la più bella Tina, che cavolo! Vai da uno Torino! Ma non si è capito niente, la rosa è più bella Non riesco, non riesco diversamente No, no, ma è lei che non capisce Avvicinati Tina, non è che posso fare C'è da queste parti Olga Fernandez magari che fa ci fa la traduzione di quello che dice E quindi gli ho scritto che mi era mancato e che avevo sentito la sua mancanza cosa che probabilmente non gli avevo espresso e non gli avevo saputo esprimere al punto tale che l'avevo portato insomma che eravamo arrivati poi a quella era arrivato poi a quella decisione allora a un certo punto è arrivata una telefonata inaspettata che era lui e mi ha detto che comunque era anche lui altrettanto contento del messaggio che io gli avevo mandato a un certo punto è Grazie a tutti